Si sente l'applauso, 50 metri, 40, 30, 20, 10, Adam Tupalik, primo a Roma, terzo successo in prova di Coppa del Mondo. Adam, è stata una corrida difficile, quindi per te è una bella vittoria. Sì, una bella vittoria, sono molto soddisfatto, siamo stati qui in Italia. L'ultimo anno non ho finito, perché ho alcuni problemi di stomaco, ma questo anno ho vinto, è bello. Grazie a tutti.